Ciao Fisio e bentornati sul canale YouTube di FisioScience. In questo video vedremo insieme 5 esercizi efficaci per la mobilità toracica, alcuni accorgimenti per una loro corretta esecuzione e alcuni spunti per il razionale alla base della loro proposta terapeutica. Il rachide toracico è un distretto anatomico del corpo umano piuttosto particolare. Se da un lato infatti si ritrova anatomicamente ad essere compreso tra il rachide cervicale e il rachide lombare a costituire un elemento rachideo robusto con funzione di sostegno e di protezione insieme alla gabbia toracica e funzionalmente strettamente connesso alla funzionalità della spalla e dell'arto superiore, dall'altro dobbiamo ricordare come sia anche una importante sede dei centri del sistema nervoso autonomico. Oltre a questo oggi è piuttosto consistente la letteratura che suggerisce come la terapia manuale e l'esercizio terapeutico indirizzati proprio al rachide toracico siano efficaci nel migliorare sintomi anche in distretti anatomici adiacenti come quelli localizzati al rachide lombare, al rachide cervicale o a carico della spalla. Per tutti questi motivi gli esercizi che targettizzano il rachide dorsale possono essere un valido supporto non solo per i pazienti che hanno sintomi in questa regione anatomica ma possono essere anche un ottimo supporto terapeutico per quei pazienti che hanno sintomi anche in zone corporee adiacenti o per pazienti con esigenze particolari come l'ambito sportivo nei quali i pazienti possono avere delle richieste funzionali con l'arto superiore per attività overhead e quindi beneficiare da esercizi che targettizzano anche il rachide toracico. Aspettate un secondo, ci siamo accorti che l'80% di voi che guarda i nostri video non è iscritta al nostro canale, a voi non costa nulla ma per noi è davvero molto importante. Per questo motivo iscrivetevi al nostro canale e riprendiamo con il video. Vediamo quindi ora alcuni esercizi per la mobilità toracica che possono essere utili con questi fini. Una prima proposta di esercizio per l'estensione toracica è quella di richiedere al paziente di avanzare ulteriormente con l'appoggio delle mani, di spostare posteriormente il peso del corpo e a fine range di eseguire una piccola pressione con la zona interscapolare in direzione del lettino. Una semplice progressione è quella di utilizzare un supporto per i gomiti per targettizzare di nuovo l'estensione toracica. Le istruzioni saranno le medesime fornite nell'esercizio precedente e il paziente farà un piccolo focus in direzione del lettino con la zona interscapolare. Una proposta invece per la rotazione toracica potrebbe essere quella definita open book exercise. Al paziente verrà data l'istruzione di posizionare una mano posteriormente alla nuca e al collo e di eseguire quindi una rotazione toracolombare portando il gomito in direzione del soffitto. Un'altra variante di esercizio per la rotazione toracica e toracolombare è quella di posizionare il bacino sui talloni, di posizionare un gomito a contatto con il ginocchio omolaterale e di eseguire di nuovo un open book exercise. Un'ulteriore variante come progressione per la rotazione toracica e toracolombare è quella in posizione di cavaliere servente. Al paziente verrà data l'istruzione di aprire completamente il proprio corpo, di seguire con lo sguardo l'arto superiore in movimento ed eseguirà quindi una rotazione di tutto il tronco. Eccoci fisio quindi alla fine di questo video. Come sempre spero sia stato utile per vostro ripasso o per la vostra pratica clinica. Lasciate un mi piace, condividete il video, come sempre iscrivetevi al nostro canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao!